Buongiorno, benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulle traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade di oggi sabato 20 novembre, caratterizzato da flussi regolari agevolati dal bel tempo, ma l'insidia maggiore è costituita dalla nebbia su molte strade e autostrade, quindi occasione questa per invitarvi ad essere prudenti alla guida e soprattutto mantenere le distanze di sicurezza dal veicolo che ci precede e anche dal ghiaccio sulla strada statale dello Stelvio, ma vediamo come si presenta la viabilità in area Meneghina, qui siamo sulla 4 all'altezza di Fiorenza, flussi veicolari vivaci in entrambe le carreggiate, andiamo a Roma Sud dove in questo momento sul grande raccordo anulare si è verificato un incidente in prossimità dello svincolo Castel Giubileo e via Flaminia in direzione Salaria a seguito del quale si è sviluppata una coda. Altro incidente viene segnalato sulla strada statale del lago di Como dello Spluga a Verano-Brianza in direzione del territorio elvetico e poi sul raccordo Siena-Betolle, attenzione, c'è un incidente che sta provocando disagi e al momento è chiusa in entrambe le direzioni tra Mantignana e Olmo e non molto distante abbiamo un altro incidente a Valfabbrica sulla Tiberina e sulla Silana-Crotonese un altro incidente in prossimità dello svincolo di San Fili in direzione della strada statale 106. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, guidate con prudenza, a voi tutti uno splendido sabato e vi aspetto alle 8 e 27.